Al vivo! Che paolo scollondo al vivo! Una presentazione così, io mi sono già emozionato adesso. Ma io sono commossa. Buonasera, buonasera a tutti. Accomodati. Buonasera. Io sono commossa. Sì, sì, quella è la tua. Grazie. Chiedo a Bob se gentilmente mi prende le Q-Cars. Grazie. Immagino le persone deluse dopo questa presentazione. Perché non ti senti un po' il principe delle fiction, tu? No. No. Eh, come dice Bonucci dopo gli europei, ne devo mangiare di pasta ancora. No, dai, il principe delle fiction, no. No. Però tu con quest'aria un po' così, Cacchier Paolo. Vero. Me lo dicono, ultimamente me lo dicono. Mi sto un po' pulendo, togliendo quest'aria da super bravo ragazzo. Eh, sì, sì. Ascolta, intanto sono felice di incontrarti vis-à-vis dopo un po' di tempo. Eh, sono molto felice anch'io, grazie. Le feste sono andate bene? Sono andate bene, sì, 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 sono andate bene. Abbiamo finito di lavorare proprio a ridosso della vigilia. Siamo arrivati con i remaggi proprio lì, lì. Però, insomma, siamo contenti. Io in particolare, perché era veramente un periodo pieno, quindi avevo bisogno effettivamente fisicamente più che altro. Di tornare a casa. Di staccare un attimo, sì. Tu sei una persona molto riservata, no? Sì, e vorrei continuare ad esserlo. Così, eh? Non so cosa tu mi stia per chiedere, però tendenzialmente sì. Allora, sai, per un personaggio pubblico, te lo dico per esperienza, la riservatezza o è un vizio o è una virtù. Sì. Perché ti dicono, no, se tu sei un personaggio pubblico devi parlare della tua vita privata. Dicono. Dicono. Oppure dicono, no, no, è giusto non parlarne perché oggi tutti raccontano tutto di sé e invece magari una forma di tutela. Stai chiedendo io di quale categoria... No. Allora, io oggi mi sono inventata un modo per poterti un po' tirare fuori qualcosa. Tu mi stai per fregare, si dice così, no, tirare fuori qualcosa, mi stai per fregare. Che cosa ti sei inventata? Un cruciverba. Sì. Perché tu sei un appassionato di cruciverba. Sì, 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 io sono uno di quelli che fa il cruciverba non solo d'estate sotto l'ombrellone, sulla sdraia, ascoltando il mare. Ma anche. Mi piace. Però, vuoi vedere, io sono bravo, stasera le sbaglio tutte. Non mi far fare queste figure. No, secondo me ti divertirai anche tu, puoi leggere il risultato finale. Allora, partiamo dalla prima definizione. Aspetta, posso fare così come fanno, come si preparano i giochi? Vediamo se senti, stai sentendo? Sì, sento. Stai sentendo? Sono pronto. Chiudo gli occhi? Allora, la prima parola ha a che fare la dolce frittata dell'imperatore. Eh beh, qui mi toccate nel profondo, qui proprio è il mio piatto preferito. Ah, e cosa? Si chiama Kaiserschmarrn. Ci ho messo dai 10 ai 12 anni per imparare. Perché ogni volta in montagna mi riprendono. Io la chiamavo omelette, invece si chiama Kaiserschmarrn. Ma che cos'è? Eccola qua, eccola qua. Guarda che meraviglia, non ti fa gusto. È un piatto unico. Io l'ho conosciuto in Suttirol. È fatto ovviamente come un omelette un po' più rovinata, con marmellata di mirtilli. E qualcuno mette anche l'uvetta, questo credo sia il tipo sì con l'uvetta. Però c'è sia con uvetta, sia senza uvetta. Senza uvetta. Io ne mangio esattamente una padella come questa. Saranno tipo 12 uova. Una cosa leggera. Sì, 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 sì. Poi sto tre giorni a valle perché non riesco più. Però è il mio piatto preferito. Quindi è tutta personalizzata questa. Non farò più di più. Eh beh, naturalmente. Se non le so io le risposte, chi le sa? No, però dovrai per forza rivelare qualche cosa di te. Va bene. Di solito la parola dolce chiama la mente un atteggiamento dolce. Cioè tu sei particolarmente dolce quando nelle fiction fai innamorare o tenti di fare innamorare e cadere ai tuoi piedi le varie donzelle che incontri di puntata in puntata. Tu la prendi tanto alla larga. Dove stai arrivando? Vediamoti in questo episodio di Che Dio Ci Aiuti. Dorme da 36 ore. Ci dobbiamo preoccupare. No, no, è dovuto allo shock subito. Ho capito, ma sembra la bella addormentata. La bella l'è di sicuro. In senso medico, strettamente medico, con la curatura robusta, sana. Sì. Me lo ricordo bene quel giorno. Mi ricordo che avevo sparato, ci abbiamo messo poco per girare quella scena, perché, insomma, a parte che Diana è una bellissima donna, e quindi veniva abbastanza facile. Però io ho questo brutto vizio, che soprattutto quando mi danno via libera sulla commedia, mi piace improvvisare. E quindi tutte queste cose, corporatura, corporatura, le aggiungo sempre. E quindi se è una persona normale, ci vogliono tre ciacca, a me se ne vogliono sei. Perché devono scremare tra tutte le sciocchezze che dico. Però ogni tanto funziona. Avevo anche aggiunto qualcosa di tipo una tempra italica, esagerato. Ma sì, ma io sbrodolo. Poi vado a togliere. Ascolta, ma tu nella vita invece hai fatto più innamorare, oppure invece ti sei più innamorato? Ti ho detto che le prendi alla larga a te, ma poi... Cioè, tu sei un lati-lover, o sei uno che subisce l'amore? Io, come dice Chad Becker, io mi innamoro molto facilmente, ma di tutto. Insomma, non solo in campo amoroso. Bene, passiamo alla seconda definizione. L'orologio col cinturino che non sta nel taschino. Cos'è? L'orologio col cinturino... Da polso. L'orologio... No. Vediamo. Da polso? Sì. Che rapporto hai col tempo? Si chiamano segnatempo, non si chiamano orologi. Segnatempo? Che ha fatto il cruciverba? Sì, sì, sì. Segnatempo. Segnatempo. Che rapporto ho con il tempo? Non ci ho mai pensato. Devo dire che quest'anno, ecco, una delle cose che ha lasciato il covid a molte persone è un attimo... Una finta sensazione di riappropriarsi del tempo. Perché poi in realtà, quello che noto sulle vite della gente, degli amici che mi parlano, siamo più di corsa, più in frenesia rispetto a prima. E se tu devi dare delle priorità, a chi le dai? Beh... Quest'anno mi ha preso molto tempo il lavoro. Devo dire che ho un po' superato il confine, però, insomma, io sono un tipo molto da famiglia, quindi le mie responsabilità le ho e sono molto, molto attento a quello. Ti dedichi molto alla famiglia. Bello, bello, bello. Lo vedete così, ma invece... Invece vedi? Nasconda un mondo. Eh lo so, frego all'apparenza. Terza definizione. Il piccolo regno, dove eri il re delle mance. Sono stato in diversi posti, ristorante, immagino. Vediamo. Ristorante? Eh sì. Hai fatto il cameriere? Io ho fatto più il cameriere che l'attore. Sì, ho studiato come tutti i ragazzi questo meraviglioso lavoro che adesso sto facendo che comporta tanti sacrifici, non solo personali, ma anche familiari. Perché poi dietro a ognuno di noi quasi la totalità. Poi ci sono ragazzi più fortunati, per carità di Dio, ed è giusto che lo siano, ma rispetto a quasi la totalità tutti hanno delle famiglie che fanno un sacco di sacrifici, si fanno dei sacrifici personali, perché valla a raccontare te e i miei colleghi veneti dove il culto del lavoro è importantissimo, che faccio l'attore. Io sai quante volte sono andato in banca a chiedere un mutuo oppure chiedere che lavoro fa l'attore. in che senso, mi chiedevano. Nel senso, insomma, ci sono una serie di sacrifici, tra questi c'è anche quello di mantenersi, perché le scuole di recitazione a Roma e gli affitti a Roma sono cari, come in molte grandi città, e io dovevo fare il cameriere per forza. Ed ero il re delle mance. E come facevi? Come abbindolavi? Perché sono un po' guascone, perché parlicchio, parlo l'inglese, me la gioco un po' con lo spagnolo, guadagnavi? Sì, sì, con le mance raddoppiavo quello che prendevo di stipendio. Un bravo spollone. Quindi sì. E poi, dopo un po', come nel mio mestiere, impari a conoscere le persone, quindi guardando le persone entrare io già capivo se prenderla io o lasciarla al mio collega. Io ti avrei lanciato una mancia? No. Zero. Però avremmo riso. Apprezzavo anche questo. La gente quando viene... Tu hai appena detto che io non sono una persona generosa? No, però avremmo riso. E questo è... questo mi rende il lavoro più leggero. E questo è bello. Ma tu, quando è che hai fatto girare la ruota nella tua vita? Cioè da cameriere ad attore, il primo provino vero che ti ha consacrato un po' a questo mistero? In realtà ho fatto prima l'attore, poi il cameriere, poi il cameriere e l'attore. E adesso è un po' che non faccio più il cameriere. Ma me lo tengo caldo, nel senso... Quello ho capito, impara l'arte, mettila da parte. Lo so fare e ce l'ho là. E non si sa mai. Il lavoro no, il mio lavoro è il precariato di lusso, ma per eccellenza precariato. Per ora sta andando tutto bene, quindi... Sì, cerchiamo anche di lasciarlo andare, non tontoniamo la fortuna. Quarta definizione. L'amica che ti fa fare discese e risalite. E qui si aprirebbe un universo. Invece noi lo chiudiamo subito e andiamo dritti alla risposta. Avrei detto la musica, ma sono poche lettere, quindi la bicicletta. Perché mi conoscete? La bicicletta. Eh, lo sapevo io. La bicicletta. No, perché lui fa uno sport pericolosissimo. Cioè, è anche molto bello. Sì, infatti, se possiamo evitare di dirlo alla produzione, però sì, a me piace molto. Si chiama Downhill? Sì, qui in particolare ero più in esplorazione. Insomma, queste nuove tecnologie hanno messo... In cosa consiste esattamente? Allora, il Downhill in particolare è... Te la faccio molto semplice. Sali sulla montagna e ti butti giù come se dovessi vivere fino a... da lì a cinque minuti. Proprio corri. Senza freni. Li hai, li hai, però tendenzialmente se non li usi hai più possibilità di sopravvivere. Mentre lì, e stavo facendo un giro turistico, era il periodo in cui, tra l'altro, nella zona di Asiaco c'era stato quel tornado, tutti gli alberi dietro si vedono, aveva fatto un disastro, quindi... Ero già sfinito, sarò partito da 15 minuti, lì stavo già boccheggiando, lo vedo chiaramente. Però è molto divertente, molto rilassante. Infatti ha avuto... Fermami, eh, perché io sai che inizio a parlare... Ha avuto? Tra cinque minuti ti mando fuori e col duco io. No, no, perché c'è un sacco di cose da fare, di fare ancora. Ha avuto uno sviluppo pazzesco l'e-bike, queste biciclette elettriche, c'è stato un mercato pazzesco. Ne parliamo un'altra volta, magari fra noi due. Sì, anche le biciclette elettriche funzionano molto bene, cioè io preferisco l'elettrica, soprattutto per fare le salite. Assolutamente. Ma parliamo invece di dock, perché se c'è un luogo dove tu convieni un sacco di guai, perché voi lo vedete... Sì, certo, funziona tutto, ma sul set, quando loro devono lavorare, Spallon fa un sacco di casini. È vero. Ma dalla scuola, proprio, dalle elementari. Sì, a me piace, è un modo di vivere che ho. La gente all'inizio stanno un po' attenti, anche perché ogni attore ha il suo modo, cioè chi si concentra fino alla morte. Io fino al ciak, una sciocchezza la devo dire. Se no, non mi rilasso. Vediamo un'anticipazione, perché Dock torna il 13 gennaio, il prima serata, su Rai 1. Prepara le valigie, perché venerdì e sabato andiamo al mare. È il mio turno qui? Il tuo turno qui lo farà, Elisa. E come la convince a coprirlo? Capirà. Perché Elisa è la più romantica qua dentro? Ti rendi conto che rinuncia a un contratto qui? Cioè, lei rinuncerà a un posto di lavoro nella città più ricca, nel posto più bello del mondo. Per cosa? Per andare in Etiopia? Ma per chi soprattutto? Per Gabriel, cioè... Oh, ciao, Gabriel, scusa, non ti avevo visto. Riccardo, hai chiesto tu un consulto in fettivologia? Sì, sì, ma mi hanno detto che l'unica disponibile è una mezza manata appena arrivata, che è un po'... Si riferivano a me? Dottoressa Cecilia Tedeschi. Riccardo Bonvegna. Dove posso esaminare il caso? Forse queste precauzioni sono un po' esagerate. Mi avete chiamato per un sospetto virus, giusto? Se è così, qui dentro potreste essere tutti contagiosi. Ok, ci segua. Questo è uno spaccato della mia vita. Io sono proprio l'uomo delle figuracce. Dovunque io vada ormai ci ho fatto l'abitudine. Anzi, mi piace. Quasi quasi mi piace perché è un modo per... Dire la verità. Dimmi. No, è un modo per dire la verità. Ah, dire la verità, ho capito, dimmi la verità. Perché stavo già tornassi alla famiglia, le cose stesse. Dire la verità, sì. Vuoi dirmi qualcosa? E ti stavo dicendo, e rompere i tanti blocchi che si mettono con le altre persone. Però in quella scena sembrava che tu la facessi apposta per farti sentire, chiaramente. In quel caso sì. La seconda con quello che scoprirete, attrice bravissima, Alice Arcuri, sarà... Prima era, tanto ormai l'avete svelato. No, quella era una figuraccia. C'è dell'attualità in questa stagione? Molta attualità. Un plauso, permettetemi di farlo a tutto il reparto di sceneggiatura, perché abbiamo altri esempi di serie che hanno trattato il Covid. Questa serie non parlerà del Covid, questa stagione di Doc, ma attraverserà il Covid e lo farà in maniera molto intelligente, che è la parte più interessante e anche a me, umanamente, interessa di più capire cosa lascia il Covid nelle persone. E non solo a livello fisico, ma soprattutto a livello psicologico. Quindi questa stagione parlerà molto del dramma psicologico che vivono dei medici che sono stati sotto stress in quelle situazioni. Anche per questo sarà una stagione imperdibile, perché magari attraverso la fiction, attraverso il racconto, potremmo immedesimarci un po' di più e capire, magari anche da vicino, che cosa ha significato. Perché oggi tanti medici, per fortuna, anche tante infermiere, una su tutti, Martina Benedetti, che fra l'altro è della mia città, bravissima, che si espone sempre, anche quando le questioni da dire sono scomode, lavorano con uno stress incredibile, l'emergenza purtroppo è tornata, ma a volte è più facile capirlo attraverso la fiction e forse la forza di Rai Uno e delle sue fiction è anche questa. Quindi complimenti anche a voi che lavorate sodo e complimenti agli sceneggiatori, naturalmente. Quinta riga del cruciverba, quinta riga del cruciverba, guai a fargli sentire un suono distorto. Chi è? O cosa può essere? Fargli sentire un suono. Non è una parolaccia, sembra. Non è una parolaccia, ah, l'audiofilo. Chi è un audiofilo? Giusto, io sono un audiofilo, a me piace molto. Che cos'è? È uno dei pochi momenti che mi prendo per me stesso totalmente. Io ho il mio bell'impianto di alta fedeltà, si dice, alta definizione per spiegarlo più facilmente. Ho un punto preciso dove devo sedermi, queste casse che riproducono come se ci fosse un'orchestra. Diciamo, è il modo più vicino possibile ad un concerto per ascoltare la musica. Non si è capito niente, però è un modo molto bello per esperire la musica. Ma esperire soprattutto, ma è un po' un'ossessione questa cosa? Lo diventa, lo diventa anche perché devi ogni volta aggiungere un pezzettino. Il mutuo di prima era proprio per comprare queste cose. Perché ogni volta aggiungi un pezzettino e sono cose tecnologicamente avanzate. Sei un audiofilo e non è una parolaccia. Potete rivolgervi così a Spollon la prossima volta che lo incontrerete per strada. Sesta riga, definizione. Definizione. Arriva la definizione. Arriva la definizione. Non c'è la definizione. Allora facciamo così, in attesa della definizione, visto che ti devo fare anche i complimenti per il grande successo di Blanca, ti abbiamo visto in una versione un po' noir. Sì. Quanto ti sei divertito? Ci tenevo particolarmente. Oltre ai 6 milioni di telespettatori, quindi ci sarà anche una seconda stagione. Bravi. Hai detto te? Mi fa piacere. Sì. Sì. Grazie. E c'è qualcuno che dice delle cose di te, che tu non vuoi dire di te, quindi noi le abbiamo chieste a lei. Chi sarà? Se me lo chiedi con Blanca. Ciao Franci. Ciao Pierre. Come ben sai, mi hanno chiesto un contributo qui. Allora, sicuramente posso dire che Pierpaolo è un bravo ballerino, quindi su questa cosa non ho niente da dire. Ma non posso dire la stessa cosa sul fatto che probabilmente tu non sia un bravo chef, neanche cuoco. Perché vi posso raccontare questa cosa. Nella scena dell'ultimo episodio di Blanca, quando si vede Pierpaolo che taglia la testa a un pesce, hanno usato una controfigura, le mani di una controfigura per tagliare la testa di quel pesce, perché Pierpaolo non lo sapeva fare. Ciao Pierre, ti voglio bene. Ciao Franci. Maria Chiara Giannetta, ciao ciao. Non dovevo solo tagliare. Tu non sai cucinare? La mia cucina è una cucina di autosussistenza. Io sono molto bravo nella pasta dello studente, pasta e scatoletta di tonno. E quindi il Kaiser Schmarr? Non lo so fare. Io sono la fortuna dei ristoratori. Io amo mangiare, io sono la fortuna dei ristoratori. Te lo fai fare insomma. Sì, sì, assolutamente. Te lo fai fare. Assolutamente. Ti è piaciuto fare il cattivo? Ce l'abbiamo la scena dove fai il cattivo? La possiamo mandare in onda? La scena dove fai il cattivo Spollon? È credibile? Beh, oddio, se me lo dici in maniera così convinta, mi fa piacere. Io avevo bisogno di smarcarmi da questo personaggio artisticamente e spero fosse realmente credibile. Tu non lo dica per... Ti è venuto bene. Ce l'abbiamo. Lo mandiamo in onda? Che vuoi da me? Voglio che ritrovi la vista. Voglio che impari a vedere. A vedere veramente però. A vedere cosa vuol dire passare 15 anni in prigione. Ma a differenza di me tu mangerai bene e al contrario di me tu sei colpevole. Colpevole di cosa? Di avermi rubato la vita. A chi stavi pensando quando stavi recitando? Beh, è stato divertente, è stato divertente perché lì si va su degli aspetti della propria personalità che si spera la gente non indaghi. Sei vendicativo nella vita? No, no, no. Mi innervosisco molto e soprattutto somatizzo quindi a distanza di anni mi ricordo delle cose. ad esempio per queste scene per il nervosismo ho usato degli eventi che sono successi nella mia vita ma anche sciocchezze dove però ricordo io ho un problema a gestire la rabbia nel senso che no, non nel senso brutto che hai pensato in questo momento nel senso che non riesco ad arrabbiarmi nel momento tremo quindi preferisco sopprimere tutto e andare via. e mi è successo spesso nella vita e ho dei ricordi di qualche viaggio ho contato persone poco civili e questo ricordo Quindi tu tiri fuori quel ricordo quando poi devi interpretare una parte di questo tipo. Io somatizzo prima e poi libero dopo. Allora dammi la definizione numero sei. Le fai ma non le aspetti. Perché ridi? Perché mi sta venendo un minuto spollon. Le fai ma non le aspetti sono le puzzette, lasciamelo dire. Io te lo lascio dire, vediamo se è vero. Le fai ma non le aspetti. Che cosa sono le fai ma non le aspetti? Arriva? Le fotografie, stavo dicendo, esattamente le fotografie. Le puzzette. Le fai ma non le aspetti. Che cosa sono le fai? Le fai ma non le aspetti. Questo è il classico minuto spollon. Le polaroid. Tu sei appassionato, ma le devo dire io le tue cose. Capito, le fai ma non le aspetti. Adesso sfido la gente a casa. Dopo che ha sentito la mia risposta a dire ha ragione. Perché obiettivamente. Io sono un appassionato di polaroid. Mi piace imprimere il momento. Mi piace avere qualcosa di fisico e tangibile. Il digitale è il futuro. Siamo in mezzo. Però io sono ancora... Molto legato al vintage. E infatti l'ultima espressione è bella. Mi piace che tu abbia questo aspetto. Tra circa un mese ne farai 33. Ma di 33 ne hai già tanti. Che cosa sono? 33 giri sono i vinili. Vediamo. Vediamo. Ho indovinato. Quanti vinili hai? Sei un collezionatore. Non vado tanto sulla quantità, ma vado sulla qualità. Perché sei un audiofilo. Sono un audiofilo. No, su quello diventa proprio una questione di... Io sono matto. Ho capito che sono matto. Soprattutto adesso in questo momento. Ho capito che sono effettivamente matto. Ho rovinato la mia credibilità di fronte a tutti gli italiani. Mi dispiace. Però non riesco... Quando mi viene la devo dire. Scusa. Sono effettivamente matto e questo l'abbiamo capito. E' un po' maniaco. A me piacciono... Ad esempio ho un vinile che è il primo vinile a 60 anni. Di Led Zeppelin. Ah però... Il primo disco uscito. Era un'edizione particolare. Si chiama Turchese. che quest'estate sapevo c'era Jimmy Page al Festival di Venezia dove siamo andati per presentare Blanca. E io come un cretino giravo per tutta Venezia sudando, cercando Jimmy Page. Non l'ho trovato. Però per questo vinile ti sei riscattato agli occhi di tutti. Vero? Sì. Hanno dimenticato. Hanno dimenticato. Va bene. Mi fa piacere. L'hai comprato attraverso Mutuo anche quel vinile? Anche... Soprattutto quello. Soprattutto quello. Non perdetevi Doc che torna il 13 di gennaio in prima serata su Rai 1 con Spollon nella versione che preferite voi. Grazie per il paolo. Grazie mille. Sono stata brava. Sono stata gentilissima. Grazie mille. Come se ti avessi fatto il bacio a mano. Grazie a tutti.